ciao benvenuti e bentornati in questa nuova puntata di come hanno fatto oggi abbiamo un ospite speciale potremmo fare incredibili entrate in scena sorprese ma nel titolo è nella tunnel quindi abbiamo gabriele maini ecco siamo qui perché ieri è uscito nelle sale il tuo film freaks out ragazzi se io so per dire se non avete visto è uscito ieri quindi fai ragazzi che non è andato vada ecco se non ci siamo ancora andati andate c'è perché sennò poi veniamo a cercare personalmente uno per uno e poi lo vedete così viene grosso che abbiamo dato la sedia che la fossa così sembra un po di meno benvenuti a come hanno fatto io direi oggi partiamo dal trailer poi ti facciamo delle domande che ci vengono in mente e poi magari andiamo anche un po suggero bo perché l'ho rivisto ieri o delle domande anche su quello volentieri per chi non lo sapesse l'ambientazione a seconda non era evidente sai da questi da queste divise magari gli piace semplicemente quello stile già qua delle domande qui ecco altre domande guarda che ha combinato io non ammazzo nessuno la guerra è guerra falli fruttasti poteri il mio non è un dono è una maledizione e vabbè vabbè quindi la voce avevamo grosso esatto uno ora non è il posto più bello del mondo tu sei speciale tu sei un dono e questo è il regista mi dicono che sia bravo la scena del bombardamento in cui esplode tutto quanto tempo ci è voluto quanto è stato un panico tutto quello che è in prossimità dell'attore è opportuno che sia vero perché sennò interagisce con nulla e questa cosa si vede perché è un'esplosione che nello specifico è fatta con una campana di aria compressa sopra la quale si mette della torba della terra e della benzina che prende fuoco soltanto in una vampata comunque ha uno spostamento d'aria accanto all'attore e quindi lo vedi che si muove illumina con la benzina il corpo dell'attore e attorno a sé quando ti vedi questi film tutti dove queste cose sono fatte iperdigitalose attorno non accade nulla cioè quell'elemento che è compositato all'interno dell'inquadratura non interagisce con il mondo circostante lo puoi fare quando è tutto lontano infatti nei matte painting e nei bombardamenti lontani le abbiamo compositate queste cose però tutto ciò che è intorno all'attore per la recitazione per la credibilità va fatto davvero quindi abbiamo fatto soppa tutto abbiamo sfonato tutto ma dove ti è girato? lì abbiamo girato a Viterbo a Viterbo nella piazza principale di Viterbo quindi hai fatto esplode Viterbo si può dire no soltanto la piazza ah vabbè ok un saluto al sindaco di Viterbo è chiaro che quando casca il campanile di Viterbo quello non l'abbiamo fatto però tu comunque ti ingegni con tutta una serie di cose quando il campanile si abbatte a terra cioè lanci tutta una serie di cose che inondano i nostri attori però l'abbiamo girato in un giorno come è possibile? eh un giorno quante esplosioni? ma ora è morto dentro l'esplosione è una cavolata perché la campana la prepara in sette minuti cioè è un inizio corridori che faceva gli special effects la preparava in sette minuti ci sta quello ci stavano altra gente incaricata di lanciarti addosso i calcinacci che chiaramente erano tutti quanti di gesso con mariuma la polvere che partivamo fu un polvere perché chiaramente doveva essere tutto iperpolveroso e azione e quella roba l'abbiamo fatta in una giornata e mi ricordo questo l'aiuto regista era cambiato e mi guardò dopo il primo Shaq e si era fatto un culo così per muovere le comparse tu immagina muovere cento comparse con i bombardamenti e le cose e mi arriva e mi guarda e mi fa mi faccio una merda è tutto finto sembra che stanno alla SMA comprato alla Conad cioè che c***o è sta al coordinato Emiliano Novelli mi fa mamma mia mi fanno male le caviglie cioè sto camminando su sto c***o di terreno allucinante da stamattina sei contento dai sei contento stavamo a fare io ho detto sai tu mi dici sempre una cosa per farti così perché gli americani gli ho fatto ecco allora ti dico adesso gli americani che questo è l'ultimo Shaq non lo mollano perché vedo che vi è stata a smosciare stavo a smosciare fatto sì vi è stata a smosciare a tutti gli istanti dovevano zompaglia tutti morti cioè finiti stavamo così preparazione quanto hai lavorato quella proprio non era preparata io avevo in realtà avevo idea di come muovere la macchina da presa prima faccio una shot list narrativa e poi le presento al mio operatore che ogni volta pensavamo insieme però è importante che tu abbia idea dei keyframe cioè i punti chiave che servono per raccontare quella scena io so che per l'esplosione eccetera eccetera c'era questa sorta di trampolino a molla sì quello che lanciava i ramp si chiama ok tu corri sali su questo trampolino e fai per saltare quando lo stunt coordinato vede che tu stai in posizione pronta per saltare donna ti aiuta a saltare ti lancia ti lancia se hai qualche problema diciamo così qualche discopatia lombare ti sfonda visto anche che avete riempito in quella scena tutti come dire le conseguenze dell'esplosione tutti quanti viene di ferite corsi corpi morti anche lì per esempio prendevamo che ne so un mezzo corpo di un manichino lo mettavamo sulla campana la campana esplodeva il corpo che era già preparato diverto senza un braccio senza una mano si smegbrava invece passando da come dire dall'ambiente ai personaggi il fisico freaks out pieno di freak c'è un personaggio che è pieno di peli un ipertricotico esatto io so che quel trucco è certo quanto tempo stava quattro ore quattro ore ogni giorno rimetteva tutta l'intera cosa no allora no claudio quello lì sempre vestito quindi aveva le mani e la faccia confino al collo ok ah quindi quattro ore per la parte faccia e quindi per tutto il terocorpo invece era un tempo molto maggiore ma il corpo in realtà era una tuta ah vedi ah ok era proprio una tuta tipo della carnevale si metteva statuta e poi faltava ma invece Castellitto è il re gestisce gli insetti un diamatore di insetti esatto quanta CGI c'è lì e quanto c'è che tutta CGI ok ma non c'è quindi sul set non avete mai fatto interagire con insetti no allora aspetta aspetta no io ho chiamato quello che volgarmente in cinema viene nominato l'animalaro quello che porta i cani le cose questo c'è pure gli insetti è venuto quei baccarozzi con le cavallette con gli scorpioni africani e quelli poi dopo sono stati fotogra scannerizzati fotografati da VFX supervisor che Stefano Leoni e poi dopo li ha strutturato un asset 3D e l'ha fatto interagire con Castelletto lo scorpione africano è vero ed era pericoloso era pericoloso però ci aveva nessuno lo notava ci aveva sulla punta un tipo un tappetto un coprifungiglione di colla che se cadeva capito era un po' brutto perché noi abbiamo questo sottofondo c'è un film viene bene se un attore è in pericolo di vita cioè tendenzialmente il regista si preoccupa dice oddio memoria l'attore come continua il film è un problema è un modo eccessivo però per inonorizzare sulla brutalità del regista che per la sua immagine e per il suo film è disposto a fare qualsiasi cosa e a fregarsene di tutti perché il film lo deve finire però obiettivamente no io lo voglio molto bene anche perché sono tutti amici e ti spiacerebbe un po' se morissero beh no poi anche perché fine non si fa però e vedi allora che fa la fine è sempre quello lui c'ha altri problemi Castelletto anche lui era sottoposto a una quantità di trucco in audio perché quella è una parrucca quella è una parrucca poveraccio quella parrucca poi per funzionare doveva avere un'attaccatura diversa quindi lui tutte le mattine gli rasavano una parte dei capelli e per poter essere vera questa parrucca gliela attaccavano però la prima parte dell'attaccatura era decolorata no e non era decolorato solo quello erano decolorate pure le sopracciglia quindi andava in giro che sembrava una puzzola di base con una parte bianca sotto e una parte bianca sotto con gli occhi con gli occhi strani perché avevi queste sovracciglie bianche mi possiamo dire per colpa tua non ha più scopato esattamente a me la fica mi scansa Gabriele ti prego finiamo questo film perché ho delle esigenze proprio primarie ultima questione su questa cosa degli attori l'effetto del personale di Matilda si chiama giusto e che trasmette elettricità tramite il proprio corpo quello è complessissimo quello è l'effetto speciale più difficile che abbiamo fatto sul set abbiamo utilizzato dei led che avevano una frequenza di un determinato tipo quindi vibrava così la luce questo led era applicato sul corpo della ragazza e sopra il prosthetic artist ricopriva con una pelle poi il visual effects aveva un asset 3D dell'anatomia di una donna e l'ha applicata in quello spazio quello spazio e metteva luce quindi l'attrice aveva la luce sul volto però poi abbiamo fatto un lavoro di rifinitura si vede i muscoli i capillari le vede è che Marco si arrabbia sempre tanto quando io gli spiego che sul set si è fatto un buco di culo infinito per fare una roba che poi viene cancellata in poste non capisce l'importanza della reference la reference è fondamentale perché ti dà la visione si ma lui mi fa degli esempi tipo il signore degli anelli che ci sono 45 poveri tizi che ricostruiscono una foresta vera dimensione 1 a 1 e poi probabilmente non si è mai vista quello fa rosicare eh capito meno male devo dire una cosa devo dire una cosa io ho un rapporto meraviglioso col mio scenografo quando si fanno un mazzo tanto per raccontare lo spazio se tu te chiudi con 85 apri tutto quanto a 2,8 non vedi un c***o dietro e stai stretto in primissimo piano dici scusa perché abbiamo chiamato 300 persone perché c'è tutto il circo perché ci sono tutte queste lampatine e devo dire che il codice no gravi io questo lo dico anche un po' con orgoglio mi dicono sempre grazie se vede tutto franz ha 6 dita per mano yes e io ho visto che sono prostetiche gli è stato aggiunto un dito per ogni mano però nelle scene in cui suona fisicamente il piano forte quindi il mignolo è CGI sì perché allora le mani che tu vedi sulla tastiera sono le mani di un pianista ok non è Franz Rogowski l'attore tedesco che suona è la testa di Franz Rogowski che è montata è un head replacement poi dopo una volta montato il film il sesto dito l'abbiamo 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 montato abbiamo aggiunto successivamente abbiamo finito di parlare di Freaks Out vi ricordiamo che è in sala quindi andatelo a vedere mannaggina io avrò delle domande anche su Gig Robo mai la scena la prima scena in cui diciamo di combattimento in cui a un certo punto Santa Maria solleva questo attore che ha un peso non indifferente 180 kg ecco c'è la pretazzina esatto sopra la testa e poi lo scaraventa io lì ho proprio pensato come sono fatto quindi adesso magari la rivediamo al volo così anche chi sta da casa se la vede poi ci spieghi guardiamo a me qui ci sta il zingaro che sta minacciando come il suo solido poi Rosi è brutto quel graffio mamma mia è fatto lo io ho finto eccolo eccolo qui lui fa questo ingresso non proprio ben pensato ecco e poi lui rido e che già sa che dice mo' io rompo il culo invece ci venga a specificare che adesso lo prende quasi per le palle mi ha fatto molto ridere e la ci sono dei cavi che tiravano su questo bestie erano quattro persone per tirarle ciò che c'era il molinello la sì 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 che lo tiravano su ecco il tavolo di balsa voglio immaginare esattamente aveva un'imbragatura come lascio lo sfondava perché comunque l'imbragatura è tosta che alla fine aveva credo forse erano due cavi non mi ricordo due corde e proprio c'è la vecchia maniera quattro persone lo tiravano su e la cosa difficile era quando lo prendevano portavano e prima quando lo lasciava cadere quindi stavano tutti la che tenevano sta persona cioè quando claudio lo spingeva comunque anche soltanto girarlo fare così io dico ti prego che non ho fatto ecco la dimostravo io volevo bene non ti sfonda la schiena non ti sfonda la schiena che ti ammazzi tutti quanti gli appartamenti e forse anche il covo dello zingaro sono rifatti in teatro di posa esattamente perché da una parte avere uno studio ti permette spostando i muri di sfruttare la profondità di campo quindi a me piace tanto questa cosa hai un controllo totale dello spazio i soffitti non c'erano c'erano tutte le luci appese quindi tutte le luci appese non c'erano soffitti i muri ti dipingi come ti pare e crei le ampiezze che ti servono a cui devi stare attento e che a volte comunque il teatro si sente si sente per finzione si sente perché magari a volte ha degli spazi impossibili ma invece io una domanda è una domanda che ho qui da quando ho visto quel film la scena in cui Santa Maria corre e da sul finale la prende lo zingaro e se sparano tutti e due dal Ponte la musica cascana io la so io voglio ovviamente perché loro proprio partono alla fine che cosa so manichini non ho capito uno è un attore vero c'è quelli che sparano in alto se si è imbragato e l'altro è un c'è un malignino con sé ok quindi che è legato a lui e viene sparato in alto e poi lasciato e che è giù c'è un problema giusto che lo tiene come un buggy jumping e cadono in acqua sono loro e cadono in acqua non cado arrivavano di una certa altezza e poi iniziavano a penzolare quante volte dovevano aspettare che finisse di penzolare che sbatte contro il punto della musica abbiamo fatto quattro volte quando cade nell'acqua lì stavamo nella piscina di Maurizio Corridori che ha fatto gli effetti speciali sia per freaks out che lo chiamavano gigrobot ma invece la famosa il famoso bancomat che viene diverto dal muro come l'avete fatto era un bancomat vero chiaramente ok poi c'era un muro dipinto e sopra questo muro avevamo messo del piombo il piombo lo peghi con grande facilità che è lo stesso materiale con cui abbiamo fatto il termosifone esatto quindi quello era un posto dove c'era un vero bancomat che voi avete no 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 avete fatto una città ah ok ecco è sulla strada di Gangs of New York cioè c'era la scenografia di tante ferretti e poi in quell'angoletto abbiamo ricreato un bancomat abbiamo messo un green screen dietro e stacca questo bancomat che c'eravamo fatti prestare che chiaramente no vabbè c'è in banco è buono adesso non mi ricordo come era quindi tutte quante le scene in cui Enzo piega la portiera del furgoncino cioè ogni volta che piega qualcosa quindi sono riproduzioni in piombo l'olimpico il muro sfondato dell'olimpico quello è è gesso quindi avete portato fisicamente un muro di gesso dentro l'olimpico sì 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 lì non c'era un muro abbiamo fatto un muro di gesso mi ricordo mi hanno detto ah oh abbiamo un proiettile il muro no lui era incollato come si chiama sto binario ok attaccato nella parte alta così e quindi era imbragato da qua quindi parte in esattamente inizia fa così in piedi così e se ferma a metà corsa sembrava Yoda così ma che c***o ti ha fatto insomma quella roba non andava bene non sono particolarmente felice ma si vede e poi gli abbiamo detto senti mettite sopra un cesto di frutta prendete main green e mettete così e fai così e poi abbiamo compositato lui così che viene che schizza via quindi voglio ringraziare gli amici di bad taste perché se Gabriele è qui anche grazie a loro quindi trovate in descrizione il link per andare sul sito di bad taste grazie mille Gabriele grazie a voi ragazzi vi ricordo per l'ennesima volta che il film è in sole in questo momento andate a vederlo e che vi favore anche se no che mandiamo santa maria che pure si è un po' dimagrito comunque è molto veloce un po' dimagrito ma comunque molto veloce ciao ciao rica